Segui, Niki, ci stanno inseguendo, resto, mamma ci inseguono, resto, Niki guardate le spalle, mamma, tu controlla la specchietta, chi è? Chi è che ci insegue? Nessuno, nessuno, come resto? No! Tu spara, ne spara! Mamma, spara! Chi sarà che ci insegue? Mamma, chi è che ci insegue? Molte macchine! E carabinieri? Sì! Allora scappiamo! Niki, butta una bomba! Mamma, butta la bomba! Guarda quelli davanti! Guarda, mamma, guarda! Brava! Non ci prenderanno! Guarda, guarda! Attentano a sparare, Nicolò! Mitraglia! Oh no, Anna, mitraglia! Oh no, Anna, mitraglia! Siamo quasi arrivati! Brava, mamma! Li hai ammazzati tutti! Tutti! Sono morti tutto quante! Meno male! No, non ci sono morti tutti! Sono morti tutti gli altri! Ma insieme! Non ci sono morti! ストップ al livello! Tantiilerini! Buongiorno ai municipality! advantage! Nu Amazing! E' una bomba dietro! E' andata! Si è andata! E' andata! E' andata! E abbiamo ammazzati tutti! Sì!